Domani inizia la scuola. Quanto avete dovuto lavorare in questi mesi per garantire un inizio in sicurezza e in tranquillità? Il lavoro è stato tanto. Diciamo che la preoccupazione c'è, c'è sempre, però siamo anche consapevoli che l'anno scorso è stato già un anno impegnativo e abbiamo avuto delle buonissime risposte dalla nostra comunità scolastica. Quindi diciamo che le misure organizzative e tutto ciò che concerne rientro a scuola dovrebbe essere abbastanza collaudato. Per quanto riguarda il Green Pass e soprattutto i genitori che accedono alla scuola, come vi siete organizzati? Allora, questo è uno degli ultimi adempimenti che ci sono stati assegnati. Dunque, per quanto riguarda il Green Pass del personale scolastico, il Ministero dell'Istruzione ha implementato una piattaforma attraverso la quale possiamo verificare lo stato della certificazione verde da remoto e quindi diciamo che è un'operazione più semplice e più agile. Per quanto riguarda invece i genitori, il Green Pass è richiesto solo nel momento in cui il genitore entra nei nostri edifici scolastici. Quindi dovrebbe non essere necessario per il semplice accompagnamento ai varchi d'ingresso dei nostri plessi, ma sarà richiesto nel momento in cui il genitore avrà bisogno di accedere ai servizi di segreteria oppure dovrà presenziare a qualche riunione specifica.